Le voci di una possibile penalizzazione di 8 punti, più una multa da 350.000 euro per la mancata sostruzione della rigettata fideiussione emessa dalla società Finward, hanno fatto passare in secondo piano l'ottimo ovvio di campionato del nuovo propiacenza targato Seleco, capace di raccogliere 7 punti in tre partite. Ci ha quindi pensato il presidente Maurizio Pannella, mediante una lunga intervista rilasciata il quotidiano Libertà, a smorzare l'assordante silenzio da parte della società circa la spinosa questione. Un silenzio che non faceva preludere nulla di buono. Il numero 1 rosso-nero, dopo aver ribadito l'ottimo lavoro svolto dalla dirigenza nell'allestimento di una squadra, a suo dire, in grado di entrare in lotta per la Serie B, ha rassicurato l'ambiente, affermando come le problematiche siano in via di completa risoluzione. Per quanto riguarda il nodo fideiussione, ha fatto sapere il massimo dirigente, già nella giornata odierna, o al massimo domani, i vertici federali ratificheranno la totale regolarità del PRO nella vicenda. Non siamo stati certo con le mani in mano dopo aver ricevuto la comunicazione del rigetto di quella presentata a corredo della domanda di iscrizione. Abbiamo infatti provveduto a presentarne un'altra con data certificata pregressa rispetto al termine del 28 settembre. Assolutamente infondate, ha proseguito il presidente, le voci che ci vorrebbero a rischio penalizzazione. Ai nostri simpatizzanti, ha quindi concluso, dico di stare tranquilli e che questo propiacenza sarà in grado di regalarsi e regalare tante soddisfazioni.